E' pieno svolgimento alla prova anche per questi atleti, noi ne approfittiamo per comunicare, ci sono stati offizializzati in questo istante dalla giuria, i nomi delle atlete che hanno conseguito i primi 16-20 milioni nella gara sprint femminile appena conclusa, risultano essere Fusecco Giorgia, Sorcionoro Malice, Presti Giulia, Lampitelli Elena, Federici Anastasia, Ragoneggiada, Vetti Ilaria, Fedoni Luglia, Dele Ucaresa, Micone Ginevra, Cesca Selena, Conini Chiara, Trovo Emma, Benini Giorgia, Pilota Giorgia e Generucci Ludovica, 34-82 intanto